Ciao a tutti ragazzi, io sono Maroceles, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo dentro a iFootball 2024, finalmente hanno pinto la manutenzione, è uscito il gioco. E cosa abbiamo? Abbiamo la Startup Campaign, come prima cosa, la campagna d'inizio. Cosa abbiamo? Allora, regalo 4 partner clubs e un iFootball Strike, che sarà la divisa. Abbiamo gli eventi, che danno 80.000 allenamenti, i login bonus che ci daranno in totale, se prendete tutti i giorni, entrate. 360.000 GP, 60.000 esperienze, 120 monete per 4 Epic. Abbiamo gli obiettivi della campagna, quindi le missioni, con 4 allenamenti, 100 monete, 120.000 esperienze allenamento, 400.000 GP. Abbiamo gli eventi tour, con Partner Club Highlight per 2, a cordo buio, bisogna vedere che pacchetto è. E sarà al solito contro gli A, penso, per 2 settimane. Lo fai una settimana uno e una settimana l'altro, bisogna vedere chi c'è dentro. 60.000 allenamenti e 450.000 GP. Abbiamo 50% off sui pass partita. Ottimo, perché costano davvero troppo. Poi abbiamo la credo speciale di un Messi, che si può comprare 287 giorni rimanenti, che è un Messi speciale, che con il booster tecnica ti arriva fino a 100. Abbiamo la squadra settimana, con un Holland 97, stupendo. Abbiamo poi settembre Italia, dentro ci abbiamo Farskelia, Barella e Nudica, c'è il risalto, poi vediamo chi c'è dentro e dietro. Da starter, l'evento tour, la start-up campaign, dove appunto si faranno gli highlight partner clubs, come dicevo, gli accordi a buio, con i due, uno alla settimana, sto facendo quello. C'è la victory run, un evento sfida, un evento contro l'IA di lunga durata, quindi sei da livello di difficoltà più adatto al tuo livello di abilità personale. Cioè, le quale direi, lo petto di scrivere, non è GP, non lo, non lo. Vabbè, la c'è nel team, per riprogrammi abilità. E poi giveaway, calcio di inizio, i football, ci danno un berry con 5000 punti. Poi vediamo il pass partita, quindi andiamo nel negozio, sui punti football, che c'è il berry, berry che parte 84, un cc, che può fare anche mediano, Un bel esagono iniziale E I livelli Dove sono andato scritti Ah lì sotto Mi sono un po' trovato spaisato Perché di solito erano a sinistra Adesso i livelli ce li abbiamo sotto All'altezza, peso, età Abbiamo 10 livelli Per Barry e punti progresso Abbiamo Frequenza, precisione Piede debole, forma incrollabile La distanza di fortuna di media E poi tutte le abilità del giocatore Muro, leader, esperimento combattivo Più difensivo questo che Offensivo Vabbè Lo prendiamo ovviamente perché abbiamo 40.000 punti noi Let's go Portiamoci a casa Barry, poi lo proveremo sicuramente Abbiamo appunto gli obiettivi Come dicevamo Ci sono le missioni di start up E se completiamo 6 missioni Ci danno 50 monete Per ora Erano Erano 100 Quindi Tra una settimana probabilmente Aggiornano gli obiettivi E mettono gli altri 50 Dentro Pass partita Andiamo a vedere un po' Chi c'è Abbiamo Un Sonaldo E Un Van Dijk Perfetto Ottimi giocatori 94-95 Molto buoni Molto buoni Poi vabbè Qua è sempre il solito Fino a qua Non stiamo a vedere Non stiamo a vedere manco quanto ci danno Sell del 50% Sono andato su acquista monete Ho sbagliato Sell del 50% Sblocca 250 Son E 500 Van Dijk Allora Per adesso Non lo sblocco Sono andato a vedere un po' Le mail Abbiamo campagna kickoff Poi Misurazione di riduzione Del carico del serve E i booster Per i giocatori Che sono questi Nuovi Robi Che hanno Tre Tipologie diverse Di booster Che Vanno a potenziare Diverse statistiche Quello Offensivo Quello Tecnico Quello Difensivo Mi sembra Non mi ricordo adesso Nuovo aggiornamento Tutte le Sei pagine Qua Poi Aviso sicurezza Resetto Dei punti Allora Abbiamo Rinodo del contatto Di 10 giorni Per 24 Ce ne sono andati Così Bene Possiamo recuperare Qualche leggenda Gli diamo Tutti Allora Poi Una volta lo usi Uno 10 giorni Di aspettare Che finiscono Questi 10 giorni Per usare Usare Buono Saggiornamento Anticipato Accordo al buio Stata campaign Accordo al buio Regale Amministratore 50 monete Ricordiamo che Ci dovevano compensare Per il fatto che La partita di prova Non si poteva fare Su mobile Quando è uscito L'aggiornamento Poi Il giorno dopo È uscito Su pc Console E si poteva Giocare Quindi Chi sa Magari Solo su mobile La ricompensa Andiamo a vedere Un po' Cosa abbiamo Allora Nei contratti Abbiamo Gli allenatori Giocatori standard Giocatori standard Con i ticket I pacchetti E la lista Giocatori speciali Sono usciti i pacchetti È uscito quello Di Messi Che costa 1500 monete Con 1500 monete Voi vi portate a casa Messi Con il booster Tecnico Poi Come faccio A vedere gli altri Ok qua Abbiamo Suarez Di Maria Paredes De Paul Ter Stegen Vitigna Romero Achimi Pedri E Taya Fico Ah Ci sono nomi Interessanti Qualche nome Interessante Poi Vabbè Lista allenatori Guardi Allenatori Ormai Su cosa Tu Calma Non ti voglio vedere Su che base Si prendono Gli allenatori Allora Nei 6 giocatori speciali Abbiamo Partner clubs Vediamo un po' Chi c'è dentro Quello che ci hanno regalato Musial Lewandowski Casemiro Ter Stegen Devis Non lo stavo Manco riconoscendo Ferran Torres Masraoui Müller Anthony Onana Alejandro Baldè Garnaccio Garnaccio Matistel Famisaka E Oriol Romeo Attenzione E poi Partner clubs Ma sono solo tre Dove si sono solo tre Dei partner clubs Manca l'Inter Manca il Milan Mancano Mancano New captains Attenzione Contratto mirato Lautaro Martinez Nuo capitano Mamma mia 24 livelli Poi sto Lo prendo Per forza Un 5 stelle Se ne va Qui Ojasabal James Bruno Fernandez Samba Nacio Danilo Gertrude Serki Roberto E Bear One Beh Danilo Com'è 27 livelli Io l'odio Mi sta sulle palle Quindi Però East James Poi sto Terzino Adesso 27 livelli Anche lui Meno Difensivo Perché questo Un terzino Offensivo Doviamo Un terzino Offensivo Però I dati Sulla carta Le statistiche Di partenza Sono Difensive Di più Quelli di Anilu E Ok Quindi Questo È Contratto Mirato 5 stelle Abbiamo Poi Contratto I mirati Del Player D'Amese Della J-League Suzuki Watanabe Toriumi E poi La Liga Messicana American League Quindi Anche MLS Infatti c'è Herrera E Blake Voglio andare A vedere un po' Voglio vedere Herrera 21 livelli C-C Potrebbe Non essere male Muqtar Verterame Arauco Ferrera Rinosso Blake 23 livelli Il portierone Del Philadelphia Union Interessante Poi c'è Taylor L'Inter Miami Un Messi No League Selection Eh no Ma abbiamo Già dati Troppi Abbiamo Ha regalato Quello Di Inter Miami Speciale Mi hanno dato Questo A 1500 Monete Andiamo a mettere Un po' Chi c'è Nella Settembre Del Lio Vivi Kamada Kamada Aiuto Kamada Da C-C Trequartista Seconda Punta 28 livelli Abbiamo Berardi Che ha fatto Il devasto Abbiamo Schultz Abbiamo Dica Kostic Skowrowski Reinders Barac E D'Ambrosio D'Ambrosio 22 livelli Per lui Reinders Quanti ha 30 livelli Ma Può fare Il mediano Però Le statistiche Difensive Fanno Cagare Usare solo Mezzata Reinders Perché Anche se Può fare Il mediano Speccheresti Un sacco Di punti A mentare La difesa Usare Gli usi Solo lì E Sa quanti Punti Dei usare Sono tentato A Aprirne E poi Qua non c'è Il limite Di 3 Poi invece Si Rimano In T3 Non ci sono Limiti Allora Andiamo a vedere Chi ci esce Da questi Partner club Se ci hanno regalato Forse la prossima settimana Cambiano e mettono gli altri Partner club Quando ne danno altri 2 Perché Era Per 4 No? Il primo è Antonio Il secondo Uno di questi 3 Dai Dai Il football Premier 2 Dello United Van Bissaka Oh che bella Il terzino Adesso Perché erano Erano 2 1,2,4 Partner clubs Per 4 Eh si E lì Football strike La mia squadra Divise Oh hanno messo Paramount Plus Scritto Finalmente Fino a Stamattina Non c'era Fino a stamattina Non c'era scritto Paramount Plus Ma Mi scusi La La divisa strike Dov'è? Io ho riscattato le cose Non c'era la divisa Complimenti Eh vabbè Ehm Si Andiamo a vedere un po' Nei giocatori base Giocatori standard E io vado Sull'Inter Bello Il campionato Bega Ha perso La licenza Oh Abbiamo Summer Comprare Subito Per ora Quelli Quelli base Prendo Poi Vabbè Se le prossime settimane Escono È andata così Però intanto Ce li ho Abbiamo Quadrado C'è un tesi Di giacero speciale Dunfisturam Vieni qua Vieni 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 Va bene così Gli eventi Abbiamo Gli eventi a tema Si tratta di eventi In cui dovrai Completare sfide Usando squadra In linea Con i temi specifici Giocatori in prestito Al tuo servizio Potrai adeguare Tutti i giocatori Dalla squadra Senzionata Per completare sfide Alimento Tour Tour Spida A tema Nazionale Tema Nazionali Vediamo Entro Finna Nazionale Italia Entro Almeno una vittoria Poi Giocatore in prestito Ma che cazzo ha fatto? Ma abbiamo cambiato la squadra da solo Me l'ha salvata Sopra la mia squadra? Mi cazzo Mi cazzo Ok no Ok no Ok no Eh Me l'ha fatta lui In automatico Con lo schema Di gioco Che avevo Mi ha dato Giocatore in prestito Chiesa Scamacca E Donnarumma Acerbi Spinazzola Questante Locatelli Aspadori E Retteghi Oh mamma mia È bruttissimo però Cioè Stiamo facendo i complimenti Sulle facce Della gente Che non ha il facecan Poi arriva Retteghi Partita contro IA Partita contro IA Cioè Allora se c'è un'altra nazione Cioè A questo punto Se c'è un'altra nazione Accordo al buio Accordo al buio Partner clubs per uno Ah Finita da un altro E poi avere tre Alla settimana A questo punto Per queste due settimane Settiamo qua Va Ristecato tutte le cose Vanno risettate Campionato di football Fase 14 Iniziata Divisione 9 Dice già Il tizio di classifica 5.000 Avessero migliorati I premi qua Si fossero impegnati A mettere qualcosa in più A dare un senso A far venire voglia A gente di giocare Oltre al Gameplay nuovo Abbiamo migliorato Si è più giocabile Che figo Mi diverto Ma Non ho un motivo Vero e proprio Per giocare Una volta che Faccio quelle due Tre partite Prendo i premi Delle vari Eventi E poi Campionato di football A meno che non sono Fissato e devo arrivare Top 1 Lascio perdere Non ha senso Qua Adesso andiamo A selezionare La squadra Open champ Abbiamo Rüdiger Scaduto Perfetto Andiamo a cambiarlo Buona La storia Cacicosa Devo cambiare E li volevo provare Invece Belling Che è bello Bello forte Andiamo un po' a vedere Online Qual è Il feeling Qual è la sensazione Se il gioco Veramente È Quello che ci è sembrato Nella partita di prova Ieri O Se Rimane Con i problemi Di cui vi ho detto Nel video Online Del delay Delle connessioni Cose Che cambia Completamente Il gioco Perfetto 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 beh verifica lo stato della connessione si parte bene verifica stato connessione che non finisce mai infinito infinito e poi se io guardo il testo connessione gas a cazzo cambiato i colori quest'anno nuovo e e lasciano comunque cose blu e gialle ma ok va bene va bene 30 apposto guarda a te sta gente fissati non si stanno ronaldo ma solo su di lui è bello che io lo lasciano pure nel gioco quando non ci sono il campionato arabo non c'è olè occasione prima vera occasione ciao ciao messi messi oh quanto è grosso le hao oh 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 noi si leva sei bagato mamma mia oddio cosa avevo trovato cosa avevo trovato comunque si è molto meglio giù la parada di nuovo ma come una parada cazzo cazzo che ha fatto quella quel movimento lì strano è andato verso l'indietro tra un'ottima occasione no mini mini bellingham sempre dappertutto il double touch di guti poi non va però bellingham recupera di nuovo bellingham a cercare guti 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 ma che cavolo stai combinando ma che cavolo stai combinando bellingham sempre lui guti mamma mia è un mostro è un mostro è un mostro una carta troppo forte con questo gameplay può essere ancora più forte guti può dare ancora il meglio è un bel passaggio di dimarco bellissimo guti 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 come sta segnando solo il trequartista ha segnato cialanoglu ha segnato due gol guti allora vediamo come inizio sta a servire Lewandowski che cerca di castrare Neuer ci sono manco più scritti id nick sotto ci sono il nick appunto c'è id piattaforma e nickname ma che tiro è non ci arrivo non ci arrivo ottimo 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 prima partita su questo football 2024 molto molto bello piacevole da giocare e certe volte come all'inizio di partita non andavo bene è un po' snervante che c'erano certe cosine da sistemare però molto più divertente rispetto a 2023 bel lavoro Konami adesso le altre modalità grazie ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti